Ciao a tutti, sono Veronica della Di Mano in Mano e oggi sostituirò Matteo nella presentazione degli articoli nuovi della settimana. Partiamo col ricordarvi i nostri numeri, 351 690 4263 per contattarci oppure assistenza clienti chioccioladimanoinmano.it I prodotti che vi presenteremo oggi sono già tutti acquistabili, basta appunto contattarci. Ulteriore cosa, ricordatevi di seguire il nostro canale e di mettere un like se vi è piaciuto il video. Partiamo subito con il primo articolo, è un tavolo da pranzo della serie Artona ed è stato disegnato da Afra e Tobia Scarpa per una produzione max alto degli anni 70. La sua struttura è in legno con stratificazioni in diverse essenze. Come potete vedere la base è quadrata e il piano è tondo nei toni del rosso e del bordeaux. Le sue dimensioni sono un'altezza di 69 cm per un diametro del piano di 145. Il suo costo è di 2800 euro. Vi ricordiamo che alla fine di questo video vi diremo il nome del vincitore della scorsa puntata del format Indovina il prezzo. Per chi non fosse a conoscenza di quello di cui sto parlando, presenteremo un prodotto nuovo, descriveremo le sue caratteristiche e chiederemo a voi di indovinarne il prezzo all'interno dei commenti al di sotto del video. Chi si avvicinerà di più al prezzo vincerà un buono da 100 euro su una spesa di 500 da spendere presto di mano in mano. Ora passiamo al secondo articolo, sempre della serie Artona di Afra e Tobia Scarpa. Come questo divano, ma non è questo divano. È una bellissima poltrona, sempre risalente agli anni 70, una seduta che si presenta in ottime condizioni, la struttura è in legno con stratificazioni di diverse essenze e la seduta e lo schienale sono imbottiti e rivestiti in tessuti del periodo. Il suo prezzo è di 2700 euro e le sue dimensioni sono 74 centimetri di altezza, 115,5 di larghezza e 85 di profondità. L'altezza della seduta è di 45 centimetri. Passiamo adesso a questa bellissima coppia di vasi in maiolica. Sono decorati nei toni del blu e hanno dei motivi vegetali e rami di fiori dentro delle riserve. Come potete notare, sono deliziosi. Sotto la base è presente il marchio della manifattura. Guardate che meraviglia. La caratteristica della maiolica è che è una ceramica rivestita da uno smalto a base di stagno, in questo caso appunto nei toni del blu. Guardate anche sopra al coperchio la lavorazione della maiolica. Le sue dimensioni per un'altezza di 46 centimetri e un diametro di 25 hanno un prezzo di 480 euro. Eccoci qui invece con il prossimo articolo. Una balaustra in stile. Notate come i montanti sono a foggia di poderose colonne, intagliate. I motivi sono di gusto barocco, parzialmente laccate e dorate. E nella parte centrale una colonna di ferro battuto. Le sue dimensioni sono 90 centimetri di altezza, 200 di larghezza e 35 e mezzo di profondità. Il tutto per un prezzo di 530 euro. Ora, ricercate una pregiata lampada da tavolo per il vostro salotto? Eccone qui un esempio. Questa speciale lampada ha una forma di vaso bianzato, è in alabastro. Notate anche la differenza di lavorazione. Spettacolare, è bianzata, meravigliosa. Il paralume, notate com'è stato ricamato? Spettacolare. Ha un'altezza di 72 centimetri, per una larghezza di 48 e una profondità di 35. Infatti il paralume, come potete notare, non è rotondo ma è ovale. E il suo prezzo è di 630 euro. E dopo aver visto mobili, vasi e lampade, possiamo passare all'arte. Con questo bellissimo dipinto della Madonna con bambino, è un olio su tela, in cui la Madonna tiene in braccio il bambino Gesù. Entrambi sorreggono la corona del rosario come invito alla devozione mariana. Il dipinto è stato già precedentemente restaurato e ritelato, ha qualche piccola caduta di colore lungo i margini, ed è presentato in cornice cueva. Il quadro, quindi dipinto più cornice, ha una dimensione di 115 centimetri di altezza, per 89 di larghezza e 6 di profondità. La tela invece è di 100 per 73 e il suo prezzo è di 1500 euro. Vediamo adesso questa poltrona in stile neorinascimento, in legno ebanizzato e con schienale e seduta imbottiti. Qui per di più c'è anche un cuscino removibile. Ora, questa poltrona ha una particolarità molto interessante. Vediamola insieme. È trasformabile. Voilà! Diventa un bellissimo inginocchiatoio con le Gio, per non farci mancare niente. Quando avete un po' di mal di schiena, vi appoggiate e vi leggete un bel libro così. Perfetto, dopo avervi mostrato le sue caratteristiche, vi possiamo dire che ha un'altezza di 84,5 centimetri, 59 centimetri di larghezza e 60 di profondità, e l'altezza della sua seduta è di 40 centimetri. Il suo prezzo? Solo 530 euro. Vi presentiamo poi questa bellissima credenza, che non è una novità della settimana, ma è un articolo in promozione. Infatti, fino al 24 giugno, sul nostro sito e nei negozi, troverete decine di articoli di antiquariato e modernariato scontati dal 30 al 50%. Approfittiamo, quindi ricordandovi di questa promozione, per raccontarvi di questa credenza. È una credenza a doppio corpo, in stile barocco. È in abete, con alzata, recante due mensole e tre cassettini sottostanti. Il corpo inferiore, invece, ha due cassettini e due ante. Proviamo ad aprire. All'interno poi del vano inferiore troviamo un'ulteriore mensola. Come potete notare, all'interno vi è una carta che ricopre i vani. Tutto questo, vi ricordiamo, che può essere poi sostituito, restaurato, all'interno del nostro laboratorio di restauro. Noi abbiamo un laboratorio di restauro interno, dove i nostri colleghi sono davvero attenti a mantenere un restauro conservativo. Noi ci teniamo tantissimo alle origini dei prodotti che vendiamo. Quindi, mi raccomando, non esitate a chiederci anche informazioni riguardo a questo. Torniamo alle novità settimanali e vi presentiamo questo cassettone barocco, sorretto da caratteristici piedini intagliati. Il fronte è mosso a balestra e presenta quattro cassetti. Il piano, inoltre, è sagomato. Vedete che meraviglia. Il fronte è in noce e presenta tipiche cornicette e bordature banizzate. Il fronte, poi, è impiallacciato in noce rigatino, con filettature in acero e riserve in legno di olivo. Gli interni, invece, sono in pioppo e abete. Le sue misure sono 102,5 cm di altezza, 138 cm di larghezza e 64 cm di profondità. Il suo prezzo è... Rulo di tamburi, 1450 euro. Comodamente seduti, vi diamo finalmente il nome del vincitore del format. Indovina il prezzo della scorsa settimana. So che non vedevate l'ora. Allora, la vincitrice, perché è una donna, è Enrica, che con una proposta, diciamo, di 470 euro, è quella che si è avvicinata di più, perché il tavolino aveva un costo di 670 euro. Quindi, complimenti Enrica, ti contatteremo per darti il buono, insomma, da spendere presso di noi. Passiamo, invece, adesso al nuovo articolo di Indovina il prezzo. Prepariamoci. È un divano a barca Luigi Filippo. La sua struttura è in noce. La fascia inferiore è grissinata, quindi è lavorata, come potete vedere. La seduta, lo schienale e i braccioli sono imbottiti. La sua altezza è di 93,5 centimetri, 196 la sua larghezza e 61 la profondità. L'altezza, invece, è di 50 centimetri, quella della seduta. Siamo al termine del nostro video di presentazione dei prodotti della settimana. Settimana prossima tornerà Matteo, che oggi era impegnato per un corso antincendio e non ha potuto essere qui. Vi ricordiamo i nostri contatti. Il numero è 351-690-4263 e la nostra mail è assistenza clienti chioccioladimanoinmano.it Tutti i prodotti che avete visto sono acquistabili, sono eventualmente restaurabili, se necessitano di restauri o se avete intenzione voi di effettuare dei restauri. I codici li trovate in sovimpressione insieme al prodotto quando vi viene presentato. Vi auguriamo una buona settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao!